Per chi sale la prima volta al santuario di Altino, la meraviglia è inevitabile. Il paesaggio, la natura e l'antico complesso religioso ricco di bellezze artistiche lasciano i visitatori e i pellegrini stupiti e ammirati. Il cuore di questo luogo sacro, visitato ogni anno da oltre 300.000 persone, è l'antica fonte che sgorga dalla terra da oltre 500 anni e che, si dice, segna il punto preciso dell'apparizione di Maria Quinto Foglia, che, salito al Monte Altino con i suoi due figli in una giornata d'estate calda e secca, fu preso da una grande sete e chiese alla Madonna di venire in suo soccorso. Aiutami per pensieri perché io non so come fare. E la Madonna ha fatto capire a questo uomo il posto dove avrebbe prodotto trovare l'acqua. E questo posto è esattamente nella parte posteriore della chiesa, che noi chiamiamo la fonte, dove, proprio per suggerimento della Madonnina, questo uomo ha scavato, ha fatto una piccola buca nel terreno e questa buca, piano piano, 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 si è riempita d'acqua, l'acqua che proveniva certamente da una sorgente che viene dal Monte Altino. All'indomani del miracolo gli abitanti di Vallalta iniziarono la costruzione di una piccola cappella che proteggeva la fonte sacra e che via via negli anni venne ampliata e modificata fino all'imponente struttura attuale. Il santuario, che domina dall'alto la Val Seriana e la Val Gandino, emetta di pellegrinaggio tutto l'anno, ma a partire dal lunedì di Pasqua fino alla fine di maggio apre le sue porte ai fedeli ogni sabato e domenica, durante l'estate anche nei giorni feriali, con la celebrazione della messa ogni pomeriggio alle 16. Molti santuari aprono proprio nel giorno dopo Pasqua, nel lunedì dell'Angelo e anche noi come comunità parrocchiale apriamo questo santuario perché nasce la stagione, oggi dicevo appunto durante la celebrazione eucaristica, ma anche perché aprire è segno di gioia e ci ricorda un po' l'apertura, se vuoi, del sepolcro che si spalanca e il Signore risorge. Allora vuole essere un po' questo, lo scopo del santuario attraverso l'intercessione di Maria, aiutare i pellegrini a arrivare alla fede, alla fede appunto, a quella fede vera, quella fede che è l'incontro con il Signore risorto. Allora il santuario da questa stagione in poi rimane aperto per tutta la primavera, l'estate, l'autunno, verrà chiuso poi il giorno dell'Immacolata. Allora Allora Allora